E' stato convocato per il 24 luglio in prima convocazione e per il 26 in seconda il Consiglio Comunale di Battipaglia. All'ordine del giorno 11 punti, fra questi oltre alle comunicazioni sulla Giunta e sulla situazione politica da parte della Sindaca francese, una serie di debiti fuori bilancio, il conferimento della cittadinanza onoraria al Cavalier Adriano Ferraiolo, l'approvazione del regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore ed il regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici. La seduta certificherà anche l'ingresso in consiglio di Michele Alessio che subentra al neovicesindaco Stefano Romano e di Antonietta Petrosino che sostituirà l'assessore Pietro Cerullo.